Io oggi mi trovo qua perché voglio trattare un argomento nella mia rubrica con un personaggio che vi presento di nome Sebastiano Di Natale, nominato il grillo parlante, come vedete nella maglietta che ha fatto fare i milioni e milioni, e lui è un uomo, già un ex consigliere comunale e si è speso sempre a favore del popolo e dei bisognosi. Ecco perché ho avuto questo meraviglioso patronato. Sebastiano, ho fatto questa anteprima, però oggi non parliamo di patronato, ma dobbiamo parlare di un argomento che ci attanaglia e ha causato anche un morto, lo sapete tutti, un povero ragazzo, le piste ciclabili a Siracusa, un pericolo sul vero senso della parola. E allora questi personaggi che adesso vi prese, Sebastiano, vi presento l'altro, un avvocato Avvocato Galbo e Avvocato Spina. Ecco, è l'avvocato Spina. Sono due avvocati, un presidente di un patronato e Buff, che voi conoscete un po' tutti. Sebastiano, di che cosa si tratta? Allora, noi incominciamo, stiamo istituendo un comitato cittadino tra i due avvocati e me come presidente dove vogliamo trattare in prefettura l'argomento piste ciclabili Siracusa. C'è stato un sinistro, ma noi non entriamo in merito del sinistro perché sono cose molto complicate che non sarà a noi giudicarle. Noi cosa parliamo? Stiamo parlando di verificare in prefettura un incontro dove vogliamo le caratteristiche di tutte queste piste ciclabili se rispettano le norme. Loro dicono di sì, secondo me no. Io ho una misura qui a caso. Andiamo a prendere la strada di Via Algeri, una strada di 6,50, non può avere 3,50 di pista ciclabile, 60 di basole di divisione e 2,50 di strada. Mi pare una cosa non molto seria. Perciò da qui partiremo da quella zona, ma per verificare tutte le piste ciclabili di Siracusa. E l'altra grande bidonata, ditemela, che io già ne ho parlato e ne sto parlando da tempo. A giorni partiranno la pista ciclabile di Corso Gelone. Sua eccellenza il prefetto la fermi. Sarà la distruzione del Corso Gelone e di tutti i commercianti. I commercianti perché mi hanno telefonato in parecchi e mi hanno detto che addirittura oltre alla crisi che li sta attanagliando rischiano la chiusura. Allora, avvocato, come mai ti sei abbalso di due avvocati? Non di uno, scusi. Loro lavorano in coppia ed è molto bello perché sono uno di Siracusa e uno di Floridia, perciò allarghiamo anche fuori Siracusa la nostra operatività. Ma assieme a loro gradiscono operare così perché ognuno si fa forse l'altro e vanno a cercare tutti i punti più deboli che ci sono in questi progetti che già abbiamo studiato assieme. Va bene. Avvocato, io le passo il microfono, però non si prolunghi perché sennò la trasmissione la dobbiamo fare incisa ma sostivo. Sì, grazie. Grazie mille. Allora, come diceva Sebastiano, noi con il comitato stiamo preparando anche una segnalazione che verrà presentata presso gli uffici della prefettura di Siracusa. Lo scopo qual è? Lo scopo sostanzialmente è quello di verificare la legittimità o meno di queste piste ciclabili, in particolare una che è quella che sappiamo tutti quello che è successo 15 giorni fa. Ovviamente non vogliamo attribuire la piena responsabilità di quello che è successo alla pista ciclabile, ci mancherebbe altro perché comunque sappiamo tutti che nel momento in cui ci mettiamo a bordo del nostro veicolo abbiamo una piena responsabilità sia nei confronti di noi stessi ma soprattutto anche nei confronti degli altri. Però le problematiche che si pongono sono fondamentalmente due. Uno è la sicurezza dei cittadini e quindi su questo ovviamente è una problematica proprio anche sulla scorta di quello che è successo. L'altra è ovviamente la fluibilità della viabilità locale. È oggettivo che nella pista ciclabile che conduce alla Mazzarrona, nel cortile Mazzarrona, è stata fortemente limitata la viabilità locale. Quindi vogliamo fare chiarezza, sederci a un tavolo anche con gli uffici del prefetto, con il prefetto e ci si auspica anche con l'amministrazione comunale che giustamente si possa mettere a disposizione non nostra ma dei cittadini siracusani e quindi cercare di trovare una soluzione. Noi non vogliamo accusare nessuno, vogliamo semplicemente trovare una soluzione per risolvere la problematica. È stato chiarissimo. Avvocato Galbo, Galbo Giuseppe. Io sono civilista, abbiamo uno studio sia a Corso Gelone che a Floridia entrambi. Grazie a lei. Allora passiamo la parola all'altro avvocato di nome Spina, Riccardo Spina che c'è lo studio, ma anche al me di Floridia. Assolutamente sì. Sì, scusami, è una spina come mia. No, lui la rossa è questo caso. Niente, praticamente io diciamo due battute in calce a quanto il collega Galbo ha riferito prima, anche dal punto di vista di non dilungarci troppo, vedendo anche la ristrettezza dei tempi. Però è chiaro che questa nostra iniziativa che è assolutamente spontanea, assolutamente, non abbiamo dietro nessuno. Quindi noi dici magari a noi politico come funziona, Nuccio, se tu mi insegni, dietro c'è qualcuno. È una cosa spontanea che stiamo insomma cercando anche di registrare, numerosi, anche diciamo perché noi siamo portavoce di una comunità ormai. Possiamo dire anche il fatto che comunque ci sono dei numeri dietro lì, però è una cosa assolutamente spontanea. Ora cerchiamo anche di far luce insomma a queste problematiche delle piste ciclabili. Non entriamo chiaramente anche nel merito purtroppo di questo sinistro mortale che è accaduto qui nella nostra comunità sicracusana, ma soprattutto deve essere questo anche uno stimolo per fare chiarezza a tante opacità, diciamo che soprattutto da un punto di vista tecnico e amministrativo sono all'interno di questa situazione. Quindi noi il comitato costituendo servirà anche per fare soprattutto chiarezza all'organo i preposti, dal punto di vista amministrativo e anche tecnico per capire anche dinanzi all'autorità qual è il prefetto, soprattutto per capire effettivamente se sono a norma queste piste ciclabili, soprattutto se rispettano il codice della strada, come tu ben dici Nuccio. Però giustamente dobbiamo vederci chiaro sia noi, perché fondamentalmente la domanda principale è questa, responsabilità. Va bene, siccome si avvicinano le prossime elezioni comunali a maggio del 2023, se non sbaglio, sono materali e quindi siamo quasi agli sgoccioli, diciamolo principalmente Sebastiano di Natale, perché questa non è una trasmissione politica, ma è, come ho detto prima, siccome tu ti sei speso sempre e ti spendi per il sociale, lo fai principalmente per la sicurezza dei cittadini. Io l'ho fatto e lo faccio sempre, o faccio politica o non faccio politica, la politica è quello di parlare con la gente, quello che non fanno i politici di oggi. Non voglio commentare se il sindaco è andato al funerale di Luca, va bene? E io non lo perdonerò mai, mai, Sebastiano di Natale il grillo perlante non lo perdona, doveva andare a salutare i familiari e i ragazzi di Mazzarrona, che sono molto importanti perché il futuro di Siracusa nasce anche da lì. Lasciamo stare questa polemica, io dico solamente che lavoriamo per la città di Siracusa, questo sindaco speriamo che finisca presto se non vada primo, perché io ricordo ai tempi miei quando ero in consiglio comunale, qualcuno se lo ricorda, che diceva un certo sindaco, ieteterà a Sibbia, a questo non glielo dico perché avrà la fortuna che resta rampeccato in un ramo. Va bene, allora grazie Sebastiano, grazie, sperando che anche oggi abbiamo fatto una trasmissione degna per la collettività e che possa essere, adesso ve lo dico io al sindaco Francesca Etale, quanti questi galantuomini porteranno avanti questa iniziativa verso il prefetto, ci sia pure lei ed eventualmente metta a disposizione i tecnici del comune. Grazie, arrivederci.